Assessore, tante vertenze di lavoro sul suo tavolo, è un 2021 caldo, d'altronde la pandemia non agevola anche il lavoro della regione, ci sono delle buone notizie che riguardano la Yokohama, in parte anche la Betafence e poi c'è l'Alifoundri di Avezzano, insomma qual è la situazione? Ma sicuramente ci sono diverse vertenze che ho trovato appena mi sono insediato, che ho cercato subito di prendere in mano le varie situazioni, devo dire che ci sono stati dei buoni riscontri, come diceva lei, in particolar modo la Yokohama, abbiamo quasi concluso l'accordo con i sindacati, quindi in parte è sicuramente una notizia positiva, l'Alfagomma rileverà la Yokohama, quindi lì siamo a buon punto. Logicamente ce ne sono altre, c'è la Betafence che riguarda appunto lo stabilimento di Tartoretta, anche lì una buona notizia è che la Betafence va più via, inizialmente a luglio, io mi ricordo si parlava che la Betafence si trasferiva in Polonia, abbiamo scongiurato questo trasferimento, adesso è stato presentato un milione industriale che stiamo valutando con i sindacati, spero che ci sia una soluzione buona per tutti i lavoratori e comunque ci siano delle soluzioni di accompagnamento leggero di fuoriuscita. Poi ce ne sono altre che lei ha menzionato, le Foundry, io il Presidente Marsiglio e il Vice Presidente Imprudenti abbiamo fatto un incontro la scorsa settimana proprio con i rappresentanti sindacali e con l'azienda, nonostante non eravamo stati coinvolti, però abbiamo dato la nostra disponibilità a mediare sul tavolo, perché anche lì ci sono appunto delle proteste da parte dei lavoratori. Poi c'è l'ATR che stiamo aspettando la disponibilità da parte dei curatori, perché io già avevo convocato un tavolo, ma loro mi hanno chiesto un termine per approfondire tutta la documentazione, quindi a breve lo riconvocheremo. Questa è un po' la situazione, noi comunque come Regione ci stiamo muovendo, soprattutto sulla riprogrammazione delle economie dell'FSE 2014-2020 per fare delle politiche attive, ovvero per cercare di disincentivare quelle aziende importanti sul territorio e andare via dall'Abruzzo, perché fare andare via un'azienda dall'Abruzzo significa perdere i posti di lavoro e questo noi non lo vogliamo e quindi vogliamo tramite politiche attive, nei limiti del possibile, cercare di incoraggiare questa azienda a rimanere in Abruzzo, cercando noi di fare il possibile, anche a livello formativo. Noi abbiamo delle economie dell'FSE 2014-2020 che stiamo riprogrammando, logicamente alla luce anche dello sblocco dei licenziamenti che speriamo venga prorogato dopo marzo e sicuramente stiamo mettendo in campo una serie di politiche attive come incentiva all'assunzione, ma stiamo vedendo se si possono impegnare somme, come dicevo prima, per cercare di evitare che le aziende più grandi possano andare via dall'Abruzzo, anzi noi dobbiamo fare in modo che tante altre aziende possano venire in Abruzzo perché rappresenta sicuramente occupabilità per tutto il territorio.